Era certo proprio uno studio sul clima che veniva creato proprio dalla contrapposizione di questi 12 caratteri diversi e queste 12 personalità e 12 diverse appartenenze, 12 diversi cedi sociali, c'era il Reduce dall'ultima guerra, c'era il Contadino, c'erano comunque delle realtà squisitamente russe che sono talmente lontane dalla nostra realtà, dai nostri vissuti che questo lavoro di mediazione è stato veramente molto complicato, molto difficile perché cercare di conservare il sapore e quello che è l'originale, però a renderlo fruibile al pubblico italiano, quindi farne proprio come ho già detto prima, fare proprio una mediazione culturale, cioè far conoscere al pubblico italiano dei più quello che è insomma una realtà direi piuttosto sconosciuta al più. Grazie a tutti.